Che succederà adesso? Non lo so. Proviamo ad uscire e vediamo. Wow, quella è una porta costosa. Dallo studio che ha creato Shrek, Kung Fu Panda e Madagascar. Ciao, sono George Beardy, lui è il mio migliore amico Harold Hutchins. Disegniamo fumetti e ci ammazziamo dalle risate. E questo vecchio è il signor grugno. George! Harold! Il preside più terribile del mondo. Da quando frequentate questa scuola, avete combinato uno scherzo dietro l'altro. Alcuni sono stati difficili da combinare. Tipo la tigre? Quello della tigre era bello. L'avevo detto che vi avrei beccati. Ho deciso che vi spatterà o in due classi diverse. Distruggerò la vostra amicizia? George fa qualcosa. Metta giù la penna, signor grugno, o la ipnotizzeremo. Oh, quella bella. Che succede? Me lo so! Allo schiocco delle mie dita obbedirai a ogni nostro comando. Ora tu sei l'incredibile Capitan Mutanda! Tra la la! Io non credevo che funzionasse. Quest'anno? Assistenti, si va! Dobbiamo fermarlo! Perché? Lavati di mezzo, buffone! La ringrazio per il suo veicolo! Sì, meglio andare a prenderlo. La loro più grande creazione? Capitan Mutanda, non puoi volare veramente! Spiccherò il volo come uno struzzo! Certo, è proprio stupido. Ora è il loro problema più grande. Indietro, mostro! Credo che sta cominciando a finirlo! Basato sul fenomeno mondiale. Ciao, ciao, classe. Sono il nuovo professore Fico, non uno che fa paure con un programma diabolico. Ragazzi, tutto sotto controllo. Sì, tutto sotto controllo. Quando poi lo monti tutto insieme si ha una visione più chiara. Dream Wars, Capitan Mutanda, il film. Poverino, sei intrappolato in una prigione invisibile a forma di scatola! È un problema se comincia a piacermi, sì e no. Io ti libererò! Oh! Ma più sì! Non ti libero!